ehi ciao benvenuto benvenuta su winepedia a lezione con i professionisti del vino winepedia è un portale per imparare tutto quello che c'è da sapere sul mondo del vino qui trovi le nostre video lezioni divise in due categorie pro se sei già un professionista di questo mondo e vuoi approfondire un argomento specifico oppure beginner siete vicini per la prima volta al mondo del vino le nostre video lezioni comprendono un video che puoi vedere dal nostro portale dopo esserti registrato e iscritto al corso che preferisci un file audio che puoi ascoltare dai tuoi dispositivi mobile ovunque ti pare un pdf che puoi scaricare sul tuo computer ed infine un breve test che puoi svolgere alla fine del corso per metterti alla prova e scoprire se sei già diventato un wine expert tutte le lezioni di winepedia sono tenute da veri professionisti del mondo del vino enology sommelier agronomi produttori di vino ristoratori esperti in marketing e comunicazione saranno i tuoi docenti la formula delle lezioni di winepedia è smart veloce facile intuitiva winepedia è anche blog puoi leggerlo per rimanere aggiornato su tutte le novità del mondo del vino entra a far parte della nostra community e ricordati di bere bene bene responsabilmente ma soprattutto che chi beve non guida ciao